La Gianetti Ruote è una storica impresa italiana che può essere considerata l'emblema dell'industria manufatturiera lombarda. La Gianetti è stata collocata sul mercato nel 2018 a seguito di una decisione della Commissione europea nell'ambito di una procedura di concentrazione a tutela della concorrenza. Infatti la Gianetti più la sua concorrente tedesca, di proprietà della medesima società americana, detenevano quasi l'80% del mercato delle ruote nell'ambito della comunità europea. Il problema è che a seguito della cessione è diventato proprietario di un fondo comune tedesco, non si sono poi fatti altri investimenti e quindi si è arrivati a quello che sappiamo con il licenziamento dei dipendenti. Ebbene io chiederò che la comunità europea riavola fascicolo, verifichi che tutto è stato fatto correttamente, che nessuno abbia fatto il furbo e per quale motivo a seguito di quella decisione a tutela della concorrenza però non si è avuta la tutela dei posti di lavoro, non si è avuta la tutela dell'economia lombarda e dell'economia italiana che sicuramente c'è di molto più interesse che una mera tutela della concorrenza che in definitiva non è nemmeno stata effettuata. Ci risentiremo presto su questi schermi. Grazie a tutti voi.